Assessore c'è una bella opportunità per i giovani del nostro territorio? Sì c'è una bella opportunità, facciamo il bene comune, è un bando che viene messo a disposizione dalla regione, ci sto a fare fatica, è la ripetizione, si ripropone quello fatto lo scorso anno perché ha funzionato veramente bene, c'è stata un'adesione molto importante di giovani, giovani compresi tra i 16 e i 21 anni ai quali faccio un appello affinché si possano iscrivere e partecipare a questo progetto. È un progetto bellissimo in cui potrete non solo socializzare su di voi ma potrete prendervi cura della vostra città, è un progetto attraverso il quale riqualificheremo degli spazi pubblici, entreremo nei parchi, potremo pitturare panchine, potremo comunque fare dei lavori oltre che fisici magari di pulizia ma anche proprio di creatività. Pertanto vi invitiamo a restare protagonisti della città, è molto importante perché anche il fatto stesso che dedicate un momento estivo del vostro tempo ha un significato e ha un valore sociale, oltre che appunto dello stare insieme per la vostra città. Quando si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa una volta raccolte le adesioni dei ragazzi e delle ragazze di tutto il territorio dell'ambito, quindi dei nove comuni, dovrebbe partire dall'11 luglio, per tutto il mese di luglio appunto, e la prima settimana di agosto. Abbiamo aderito come ambito sociale 6, quindi per tutti i comuni, per i nove comuni, perché riteniamo interessante questo percorso di educazione e la cittadinanza attiva per i nostri giovani, perché sacrificio, condivisione, cura del bene comune, degli spazi, rispetto della cosa pubblica e lavoro di gruppo sono sicuramente valori da promuovere, anche per fare in modo che ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni possano davvero maturare un percorso di cittadinanza attiva e consapevole.